Intanto devo dire che ti fa onore quello che hai fatto una settimana e mezza fa perché il fatto era questo, che Giussi Barraco, che è un'ex campionessa di nuoto paralimpica che abita vicino Trapani, a un certo punto ha subito un furto e le hanno rubato pensate, soltanto la carrozzina perché lei è disabile quindi non ha l'uso delle gambe. A quel punto tu sei intervenuto con immediatezza, facendo che cosa? Io guardando il telegiornale di Canale 5 la mattina verso le 8 e mezzo ho visto l'intervista di questa campionessa che piangeva dicendo che gli avevano tolto le gambe, gli avevano tolto la vita, non si poteva più muovere era l'unico mezzo per cui lei poteva vivere in casa, muoversi con il marito gliel'avevano rubata ed era il mondo, gli era crollato addosso, aveva un viso disperato mi sono commosso e ho detto ma non è possibile che si possa rubare una carrozzina una disabile, una disabile che vive solo in quella maniera con una carrozzina che si può muovere ed è stato un gesto così infame, così vergognoso. Allora mi sono attivato chiedendo cortesemente alla direttrice di Telemolise, Manuela Patescia, di capire come e in che maniera io potevo mettermi in contatto con questa ragazza, perché non sapendo chi fosse, non sapendo da che parte parlava, non sapevo dove l'avevano intervistata per me era impossibile poterla raggiungere, è stata molto molto gentile Manuela e in poche ore è riuscita a farmi collegare con questa persona che è veramente una persona stupenda e ho detto che non si poteva preoccupare di quello che avevano fatto queste persone con questa infamia, che è la carrozzina più bella, più nuova, più agevole, più importante che poteva essere per lei, per tutti i suoi movimenti, gliel'avrei regalata io, per cui è nata questa amicizia, adesso ci sentiamo quasi tutti i giorni, la felicità di questa ragazza non te la posso immaginare perché è stato un momento così commovente quando gli ho comunicato questa mia decisione, questa mia volontà, che l'ha messa naturalmente al settimo cielo, alzava le mani con la gioia, con la felicità, piangeva per la contentezza lei, il marito, ecco ho fatto questo gesto perché mi sembrava opportuno e doveroso da chi può oggi donare qualcosa lo deve fare, non farlo è un peccato. Certamente, senti tu durante la prima fase di questa, diciamo nel lockdown di marzo, avevi anche donato mi pare dei ventilatori all'ospedale Cardarelli? Sì, durante quel periodo ho donato sei ventilatori, tre all'ospedale Cardarelli e tre all'ospedale Vito Farsi di Lecce perché era un problema quello di sopravvivenza per chi stava male e ho dovuto anche lottare con la casa costruttrice perché volevano farmeli arrivare con ondate molto lunghe. Beh, io da imprenditore ho cercato di fare il mio dovere, parlare con il proprietario, dell'amministratore delegato e della società che ricostruiva perché era l'unica società in Italia che costruiva ventilatori e con la pressione imprenditoriale e con il modo di fare l'imprenditoriale un po' violento, mi scuso del mio modo di essere anche determinato in certe situazioni, questi ventilatori li ho fatti arrivare prima del tempo e so che sono stati molto molto utili sia all'ospedale Cardarelli sia all'ospedale Vito Farsi. Ho avuto il ringraziamento del direttore generale dell'Asda di Campobasso e quello di Lecce. Grazie Rino Morelli. Grazie a voi e grazie Antonio e grazie a tutti i tuoi spettatori a cui sono molto legato perché ti seguono con la tua trasmissione e tu come direttore di Telemolise per lo sport fai svolgere un'attività veramente encomiabile perché mantieni avanti questo tuo lavoro con grande professionalità ormai da decenni. Grazie a tutti i tuoi spettatori.